Omar e Sabrina stanno giocando a dadi facendo previsioni sulle uscite. Omar scommette che lanciando i due dadi in successione usciranno prima un 2 e poi un numero dispari. Che probabilità ha di vincere? Per vincere occorre che si verifichino contemporaneamente due eventi, cioè che esca due sul primo dado ed esca un numero dispari sul secondo dado. Per determinare la probabilità di vincita, possiamo servirci di una tabella a doppia entrata, in cui indicare tutti i casi possibili. Una volta compilata, evidenziamo i casi favorevoli e svolgiamo il calcolo della probabilità. Vediamo quindi che Omar ha una probabilità su 12 di vincere. Poiché i due eventi che devono verificarsi sono indipendenti, potevamo giungere alla stessa conclusione in un altro modo. Lanciando il primo dado, abbiamo una probabilità su 6 che esca il 2. Lanciando il secondo, invece, abbiamo una probabilità su 2 che esca un numero dispari. Il prodotto delle due probabilità ci fornisce il dato che cerchiamo. Come vediamo, il risultato coincide con il precedente. Abbiamo calcolato in questo modo la probabilità composta, cioè la probabilità di un evento composto a sua volta da più eventi indipendenti. Questa è sempre uguale al prodotto delle probabilità dei singoli eventi che devono verificarsi.